Ciao a tutti dalla redazione del Corriere dello Sport Stadio. Siamo orgogliosi di essere media partners degli Access International Video Awards. È un'occasione importantissima per celebrare la creatività e la collaborazione di tutte le città del mondo. Ciao, sono Marco Ballarini, il sindaco di Corbetta e sono fiero di annunciare la nostra partecipazione all'Access International Video Awards 2024. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Bianca, assessore allo sport e al turismo del Comune di Genova. Quest'anno per noi è davvero un motivo di orgoglio partecipare nell'anno in cui Genova è capitale europea dello sport. Hola, sono Luciana Pelino, segretario di Sport e Laser di Diadema Brasil. Obrigada. Buongiorno a tutti, il mio nome è Nicola Pelino, sono Presidente dell'Access International Video Awards 2024. Ho spero di gustare. Buongiorno a tutti. 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 enteredo un lato most comprehensive di condotto success publicano Everywhere toets International Bilio Aguas 2024. Emanuela Ferrante Congo, assessore allo sport e top five opportunities del Comune di Napoli. Siamo felicissimi di partecipare all'Access International Video Awards 2024 come capitale europea dell'esporto 2026. Hallo, sono Diego González, secretario di Deportes dellaimportanza di Porta Madrid Chugut, Argentina e siamo molto emozionati di partecipare. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Barratelli, rappresentante l'Ittera dei Due Laghi. Anche quest'anno siamo lieti di partecipare all'Access International Video Award 2024. Buongiorno a tutti, sono Francesco Passerini, sindaco del Comune di Cologna. Anche noi parteciperemo all'Access Award per 2004 a Macerata. Ci vediamo a Macerata, a presto! Ciao, sono Raffaele Piemontese, il Vice Presidente della Regione Puglia, Assessore allo Sport per Tutti e sono lieto di annunciare che la Puglia partecipa all'Access International Video Awards del 2024. Buongiorno a tutti, sono Cristiano Corazzari, Assessore allo Sport del Veneto e sicuramente per noi un grande orgoglio partecipare all'Access International Video Awards. Sono Gaetano Desimio, Assessore allo Sport del Comune di Vieste. Non vediamo l'ora di partecipare per farvi conoscere tutto quello che rappresenta lo sport per noi. Ciao a tutti, sono Ermal Dreda, Presidente della Regione Puglia di Vlora Municipale di Albania. Annuncio la partecipazione di Vlora Municipale in l'Access Video Awards del 2024. Buongiorno a tutti! La città di Macerata, la Regione Marche e l'Overtime Festival vi aspettano il 12 ottobre nella bellissima cornice del Teatro Dallorossi per la quarta edizione degli Assess Video Awards. Vi aspettiamo! Sono Deborah Miccio, il Direttore Commerciale e Marketing dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Vi aspettiamo! Un saluto a tutti i partecipanti e partner del grande mondo di Access. Anche quest'anno uniti sotto la bandiera dello sport. Vi aspettiamo tutti a Macerata il 12 ottobre all'Overtime Festival! Grazie a tutti!